Gli infermieri sono pronti a vaccinare e a farsi vaccinare da sempre. Persigliano infatti i centri per le vaccinazioni e nonostante il bando per il reclutamento del personale per il piano nazionale sul vaccino anti-covid non renda facile l'adesione alla campagna, non si tireranno indietro in questo momento così difficile. Siano essi liberi professionisti o pensionati che hanno già dimostrato il loro impegno durante la pandemia. I dati sull'adesione in molte regioni italiane alla campagna vaccinale hanno raggiunto cifre molto importanti anche oltre il 98%. La Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche sostiene così la necessità delle campagne vaccinali ed è pronta a contribuire in modo diretto attraverso i suoi professionisti all'informazione, all'educazione, alla salute che deve essere alla base di una nuova cultura della popolazione, in linea con la comunità scientifica nazionale ed internazionale che riconosce alle vaccinazioni un ruolo essenziale a livello di prevenzione e di lotta contro il virus, in generale anche alle principali malattie diffuse. Gli infermieri saranno così in prima linea per supportare attraverso l'educazione sanitaria l'adesione consapevole anche dei cittadini alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19.